Ok ragazzi oggi continuiamo con la seconda parte del video dedicato al montaggio del kit di Xtreme Car Audio E oggi andremo a vedere come collegare i tweeter In questo momento vi sto facendo vedere intanto il materiale che serve per preparare, per predisporre i tweeter al montaggio sulla macchina Mi sono preso due prolunghe di filo in rame ovviamente, una più corta e una più lunga Poi vi farò vedere perché, un condensatore fornitomi da Xtreme Car Audio E del termoristringente verde per il cavo rosso e nero per il cavo nero Quindi ragazzi, intro e cominciamo subito Ok ragazzi, come primo passo bisognerà togliere il supporto del tweeter Infatti è composto da due parti, questo supportino andrà tolto così possiamo infilare il tweeter dentro al montante senza difficoltà Ci prepariamo le due prolunghette dei fili per la saldatura, sia il cavo rosso che il cavo nero E qui mi sono fatto dare una mano da mio padre perché lui è bravissimo con le micro saldature E quindi niente, visto che c'erano ho approfittato Diciamo non è che posso stare a insegnarvi a saldare in quanto comunque io non è che sono bravissimo a saldare Però insomma, potete vedere un po' i passaggi Prima bisogna bagnare tra virgolette con lo stagno le punte dei fili che andranno saldati Dopodiché si avvicinano e sempre con una puntina di stagno si vanno a unire A saldare E ovviamente più il rame è buono e più si salda meglio lo stagno sul rame Quindi magari più è scadente e meno è facile fare la saldatura Perché lo stagno non attacca, principalmente a questo E niente, però alla fine diciamo non è nulla di complicato L'avrei potuto fare pure io come faccio di solito Anche quando monto le strippe a led che poi le vado a saldare sulla presa dell'accendisigari Però come vi ho detto ne ho voluto approfittare E poi a lui gli piace fare queste cose quindi lo coinvolgo E niente, poi andiamo a ricoprire tutto con il termoristringente Con la pistola ad aria calda e la pistola termica O in eventual caso potete utilizzare anche un phone Andiamo a scaldare il termoristringente Così da far diventare proprio un tutt'uno Tutto il corpo, tutti i fili Senza lasciare fili e cavi di rame scoperti Perché poi quello è un danno Fatto questo andiamo a preparare il finale del tweeter Io mi sono comprato dei connettori su Amazon Perché non li ho trovati altrove E poi mi sono arraggiato con delle pinze E li ho cablati Proprio il termine tecnico La crimpatrice non ce l'avevo Quindi ho provveduto così Ecco un po' più spartano Come lavoro Con la pinza così Però insomma il lavoro si fa E viene pure egregiamente Basta premere bene Così che il connettore non se ne vadi in giro E' tutto a posto Dopodiché sempre Termoristringente A filo proprio con il connettore Scaldiamo E tweeter sono predisposti Al montaggio sulla macchina Quindi operazione che più o meno dura 10 minuti Quindi abbastanza veloce Non vi sto a spiegare come Come smontare il montante Però alla fine lo vedete Vi ho lasciato questo Breve video Questa breve clip Con quel pezzo di plastica Pezzo di plastica insomma Non so come si chiami Tecnicamente Comunque mi sono tolto la guarnizione Dovete toglierla anche voi E mi sono aiutato anche Per sganciare Il montante E una cosa che mi ha sorpreso E' che sono riuscito a montare il tweeter Senza smontarlo Quindi E' molto più facile così il montaggio No ragazzi Vi faccio vedere proprio bene L'ho fissato così E gli ho messo dei panni Perché comunque Non mi andava di rovinare il volante Bisogna staccare il connettore Poi questi sono tutti mini gancetti di plastica Io li ho tolti con una mano Con l'altra leggevo la GoPro Quindi vi lascio immaginare quanto è facile Ah Qui ragazzi Purtroppo Non mi ha registrato il pezzo Mi ero scordato proprio E niente Qui Intanto avevo già infilato il tweeter Dentro La presa E l'avevo bloccato Dall'altra parte Scusatemi E Purtroppo Andavo di fretta E non sono riuscito A rifare la clip Cioè in realtà Non me ne sono nemmeno accorto E sono andato avanti E Come potete vedere Insomma Qui mi sono preparato un po' Con un piccolo pezzo di spugna L'ho messo lì dietro Ho sfascettato i cavi Che erano lunghi Qui Parte importante I connettori Ha un filo tutto giallo Che è il positivo Ha un filo giallo Striato Nero Che è il negativo Poi basta fare i collegamenti Ho infilato alla meno peggio I cavi È un lavoro Che si può fare decisamente meglio E dopodiché Si richiude il tutto Ok ragazzi Abbiamo finalmente terminato Il video sul montaggio Del kit A2V E Deline Impact Nello scorso video Avete visto come Sostituire i woofer In questo video Vi ho fatto vedere Come sostituire i tweeter Senza togliere nemmeno Il montante Quindi niente Prova del 9 Vediamo se funziona tutto Accendiamo Ok Qui accendiamo tutto Proprio Buu Non ce ne frega niente Non so la ripresa Come stia venendo ragazzi Quindi perdonatemi Ok ragazzi Si sente perfettamente Non posso Prolongare La musica Perché se no Il copyright Mi ammazza Quindi Si sente pure molto bene Il sonno è veramente pulito Non so se La GoPro Registra Registra molto male l'audio Quindi Non so se si senta Però A orecchio È veramente meglio Del Del precedente Kit Kit Insomma Il precedente Impianto stock Della macchina E non ho ancora Fatto il settaggio Dell'equalizzazione Quindi adesso È tutto Tutto piatto Quindi lasciate un bel mi piace Vi ricordo di iscrivervi Al mio canale Di seguirmi su Instagram Sulla mia pagina Mitch Tuning Di seguire Extreme Car Audio Per questo video È tutto Io vi saluto Alla prossima ragazzi Alla prossima